Sequestri in tutta Italia per i narcotrafficanti dell'operazione Hamal che ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con base operativa nell'area compresa tra Torre Annunziata e Bosco Reale. Il decreto è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA ed eseguito dal GICO di Napoli. I sequestri che hanno interessato Napoli, Varese, Viterbo, Bologna, Roma, Cuneo, Cosenza, Potenza comprendono 12 immobili, 4 terreni, 8 aziende nel settore degli autotrasporti, della ristorazione e della vendita di dabbacchi, 100 conti correnti aperti in 45 banche, 30 vetture, 10 moto e un'imbarcazione. Tra le imprese sequestrate è anche una ditta di trasporti di Ponte Cagnano utilizzata per introdurre dalla Spagna in Italia gli stupefacenti. Durante il periodo di Pasqua il GICO sequestrò 60 kg di cocaina purissima nascosta in vasetti di maionese trasportate in Italia a bordo di un ato articolato intestato alla ditta di trasporti della provincia di Salerno. L'intero carico aveva un valore di circa 6 milioni di euro. Il principale indagato, Vincenzo Scarpa, di Torre Annunziata, è stato tratto in arresto dal GICO di Napoli dopo lunghi pedinamenti durante la sua permanenza in Italia, conclusasi all'aeroporto di Roma a Fiumicino dove, munito di un documento di riconoscimento falso, era in partenza per Madrid dove, secondo l'accusa, dirigeva i traffici criminosi. Alle dipendenze di Scarpa le indagini hanno dimostrato l'esistenza di una folta a schiera di subordinati stipendiati e dotati di mezzi di trasporto da utilizzare per la gestione del traffico di sostanze stupefacenti. Tra questi un ruolo di primaria importanza rivestono la moglie, Immacolata Milite, al momento irreperibile, nonché i nipoti direttamente collegati con il clan Amato Pagano.